Tra l'altro un progetto, ripeto, che va a guardare le nostre persone e che ci aiuta anche a scoprire quanto i nostri ragazzi, quando noi subito abbiamo proposto loro la possibilità di comprendere che cosa può essere una nuvola di punti, loro in automatico hanno compreso quanto effettivamente nel virtuale è possibile collocare una scritta, è possibile collocare un oggetto, è possibile collocare un qualcosa altro da quello che esiste veramente e così si è avviato e ha dato vita a questo progetto, tutti collaborando con un pezzettino, la famiglia da una parte, noi scuola dall'altra, il territorio ancora un'altra. Grazie a tutti! Grazie a tutti! ...perché conosco benissimo la sua realtà scolastica, ma che cosa ha permesso sì che non vi sedesse a piangervi addosso su questa chiusura, sui soldi che mancano, sui viaggi... ...e dal 1974... ...o meglio dire, la voglia di cercare... ...e dal 250. ...to un coefficiente a piangervi addosso... Sai mamma, le persone chiamano gli animali, si riconoscono subito. Mazzito, facciamo felicitò agli animali. Partiti! L'etica scatta veloce in avanti e passa il testimone al rispetto per l'ambiente che prosegue la corsa. È il momento della sicurezza che cede il passo alla convenienza. Che scatta e taglia il traguardo! Che squadra! Da Copp è partita la staffetta dei valori fino al 5 maggio. 200 prodotti Copp scontati del 20%. Per tutti i soci Copp verifica le modalità in punto vendita. La Copp sei tu. C'era un sogno che l'ha fatta. Lo antigenio. Da il sito gruppo. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.